Siamo in grido altissimo e veloce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Siamo in grido altissimo. La violenza patriarcale è in tutte le sue forme. Il problema ci cammina a fianco ovunque. Il problema è che ogni luogo della formazione, dalla famiglia alla scuola all'università, è un'istituzione che educa la violenza patriarcale, che rafforza i ruoli di genere invece di ricostruirli. Il problema è che da quando siamo piccole e piccoli ci insegnano che le femmine possono essere deboli, anzi lo sono, e devono dire sempre sì, essere sempre gentili, prendersi cura della casa e della famiglia e che devono stare attente a non provocare troppo il maschio. Ci operiamo perché siamo stanche delle narrazioni tossiche, per cui forse se l'è un po' cercata, per cui forse si poteva vestire meno succinta, perché chi violenta e uccide non è in preda ad una tempesta emotiva, ma è un figlio sanissimo dell'eteropatriarcato. Ci operiamo dai ruoli di genere indietro, ci operiamo perché sui nostri corpi decidiamo noi e soltanto noi e nessun senatore di nessun partito, perché siamo stanchi di sentirci dire che il sessismo non esiste e ci operiamo perché non vogliamo più mitra e sicurezza, ma perché le strade sicure le facciamo noi attraversandole, vivendole e riprendendoci. Lottiamo tutti i giorni, l'8 marzo tutti i giorni con i nostri corpi e con la nostra autodeterminazione. Buon 8 marzo di lotta, buon 8 marzo a tutte, a tutti e a tutti.